Ciao amici iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video Ciao a tutti e benvenuti in questo fantastico video della serie Hardcore Ci troviamo sopra il nostro fantastico grattacielo perché guardate è veramente bellissimo Ci siamo costruiti questo bellissimo grattacielo di vetro per cercare di sopravvivere durante la notte in questa fantastica serie dell'Hardcore Questo grattacielo è veramente una figata Guardate lì sta arrivando un piccolo zombie che cosa vuole? Oh no! Ho lasciato il ponte aperto mamma mia guardatelo E' venuto sotto di noi e andiamo subito ad ucciderlo Comunque grazie mille per il supporto che state lasciando a questa fantastica serie dell'Hardcore Mi sto divertendo veramente tantissimo a farla e ogni volta Oh! Oddio! Oh mio dio! Ogni volta raggiungiamo sempre i 6.000 e 7.000 mi piace Mamma mia grazie mille per il supporto che lasciate in questa serie perché è veramente fantastico Veramente grazie mille per il supporto che lasciate anche sui video di Rainbow Six Siege Perché sapete che quando lasciate tantissimo supporto sui video di Rainbow Six Siege Lasciate tanti mi piace e mi fa venire una voglia amata di fare video di Hardcore sempre più lunghi Giusto per ringraziarvi del supporto che lasciate in quella serie Perché sapete che quel gioco mi piace veramente tantissimo quindi mi fa veramente felice vedere così tanto supporto Comunque sono qua adesso di notte che sto combattendo un pochino con gli zombie Giusto per fare qualcosa di diverso perché tutte le volte inizio un episodio dentro in casa E questa volta ho preferito iniziarlo qui all'esterno all'aria aperta durante la notte Così posso combattere e farmare veramente tantissima esperienza Ma sapete pochè cosa voglio provare a fare? Voglio provare a uccidere questo Enderman Adesso ormai sono pronto per combattere mob forti perché sono full diamond Vai attacchiamo questo Enderman Oddio No no aspetta aspetta ma sono forte sì No no oh mio dio aspetta sono forte devo essere forte secondo me Aspettate no dai non può essere non può finire così Eccolo che sta arrivando Eccolo che sta arrivando Mori Mori ma cosa no no ma sono full diamond Perché sto perdendo così tanti cuori Aspettate dobbiamo rigenerare dobbiamo rigenerare No non può non può finire così la serie Aspettate devo per forza attaccarlo perché sennò dopo mi dà fastidio Dai dai mangiamo mangiamo Oh mamma mia avevamo quasi rischiato non ci posso credere Cioè non è possibile sono full diamond Eppure mi fanno veramente tantissimo male i mob Non ci posso credere A quanto pare non posso combattere in santa pace un Enderman anche perché c'è il rischio Che possa morire Ok non ammazzo più un Enderman anche perché questo non mi ha nemmeno droppato l'Ender Perché schifoso Da quel che mi avete spiegato per andare per forza nel Land dobbiamo cercare di craftarci l'Ender L'Ender Eye scusate E l'Ender Eye serve per trovare l'Ender Perché o quanto parla buttate in aria e vi fa vedere la direzione esatta per andare nel Land Giusto perfetto Per craftarci l'Ender Eye serve tipo la Blaze Road che mi sono dimenticato di prendere nel precedente episodio E bisogna pure prendersi un Ender Pearl E visto che io non ho ancora trovato un Ender Pearl Devo cercare di ammazzare più Enderman possibili per avere la possibilità di trovarne una Oh mio dio quanto danno fastidio quelli sti scheletto Non capiscono che io sono più forte di loro e li faccio veramente fuori Avete visto che ho lasciato il mio piccolo cavallo lì dentro perché Sapete tenerlo vicino a casa mia sarebbe stato un rischio Perché sapete c'è il fossato di lava e potrebbe veramente cascarli dentro e bruciare Infatti c'è già cascato piccolo bow ed è già morto Visto che mi sono dimenticato di prendermi le Blaze Road nel precedente episodio Andiamo subito nel Nether e cerchiamo di prenderci la Blaze Road Perché avete visto che avevamo lasciato un paio di blades in vita sopra la fortezza Quindi possiamo andare a prenderci la Blaze Road Perché veramente ci serve tantissimo per questa avventura Perché come vi ricordate questa è una hardcore Quindi se tipo muoio finisce la serie E visto che a me mi sta piacendo veramente tantissimo Non voglio che finisca quindi devo cercare di impegnarmi e di non morire Allora ci troviamo qui di nuovo nel Nether Il precedente episodio l'abbiamo esplorato è stato veramente facilissimo Quindi basta che andiamo adesso subito seguendo il nostro sapete il nostro tracciato E poi possiamo ritornare indietro perché dobbiamo cercare di ammazzare anche un Enderman Perché oggi voglio craftarmi l'Hender Eye Ma sapete cosa? Dopo voglio provare anche a costruire una nuova stanza E andare a visitare due secondi il Mineshaft Perché sapete il Mineshaft che avevamo trovato nel precedente precedente episodio Era tutto buggato e c'erano pure ranni velenosi Ma veramente potrebbero esserci dentro veramente tanti minerali o tanti diamanti In quel Mineshaft se era buggato in quel modo Ovviamente vi ricordo che ogni volta che arriviamo a 7000 mi piace Faccio il suo nuovo fantastico episodio della serie Hardcore E se supportate i video di Rainbow Six Siege mi fate felice Porto altri video della serie Hardcore E cerco di farli anche lunghi Ovviamente in ogni episodio vedete che cerco di fare un po' tutto Cioè costruire, esplorare e combattere Perché è veramente divertente Ok stiamo attenti perché ci sono pure gli Skeleton Wither Dobbiamo stare attenti perché non possiamo nemmeno utilizzare il secchio d'acqua Allora lì che cosa abbiamo? Cosa sono quelli? Oh mio dio c'è una gallina Ma che ci fa una gallina nel Nether? Non ci posso credere Ma che ci fa una gallina nel Nether? Non ci posso credere Comunque vi volevo poi ringraziare per i quasi 300.000 iscritti Per chi non lo sapesse sto per raggiungere finalmente i 300.000 iscritti Stiamo a 296.000 E se non vi siete iscritti iscrivetevi al canale Così vi supportate questo traguardo Perché veramente manca pochissimo E se tutti quelli che stanno guardando questo video non sono iscritti Si iscrivessero Raggiungeremo subito 300.000 iscritti E sapete che sarebbe una cosa fantastica Oh la finite? Mamma mia quei plays danno veramente fastidio Finalmente ho la possibilità di ammazzare quel ghast E quelli mi danno fastidio Ok avete visto che devo mirare molto più in alto Mamma mia potrei sparare anche nella lava così per creare le frecce infuocate Ma che cosa stanno cercando di fare? Quelli stanno cercando di ammazzarmi Ehi ehi Oddio Vabbè tanto qua non c'è il burrone Quindi non mi ammazzo nemmeno Il problema è che quel ghast è veramente lontano Di solito i ghast danno robe fantastiche Quindi sapete che faccio? Seguo quel ghast e cerco di ammazzarlo Perché voglio il suo loot Cosa? Non ci posso credere Perché è sparito? Avete visto? Ogni volta che mi avvicino a un ghast Lui sparisce Non ci posso credere E qui sotto che c'è? Oh mio dio Sei veramente profondo Dove è andato? Eh vabbè Ma non è possibile Non è possibile Avete visto? È sparito davanti ai miei occhi il ghast A quanto pare Ogni volta si detrasportano Forse deve essere un bug di questa vanilla Non ne ho idea sinceramente E tu piccola galina Che ci fai qui nel nether? Che cosa ci fai qua? Secondo me qualcuno si è portato Con la galina in questo nether Per cercare di mangiarla O di farla diventare qualche mostro assassino Qualche mostro veramente strano Allora Torniamo al nostro obiettivo Il nostro obiettivo qual è? Eh beh Prende la blaze rod Però la blaze rod Non me la danno Allora Cerchiamo di ammazzare tutti i blaze Che riusciamo a trovare E Oh mio dio Lì c'è uno schetto Un wither Oh mio dio Ok facciamo una cosa Mangiamo tutto Rigeneriamo E voglio cercare di Guardiamo qui sotto che c'è Ok qua non c'è la lava Per fortuna Oh eccolo ci sta avvicinando Voglio vedere Ok Oh Che figata Hanno cambiato il simbolo del cuore del wither Guardate che bello Fantastico E' veramente bellissimo Non ci posso credere Hanno cambiato il simbolo del wither Ok Ah no E' vero Non l'hanno cambiato Solo che Siamo con i cuori della hardcore Quindi hanno un simbolo diverso Mamma mia che figata che erano Erano veramente bellissimi Comunque Allora Cerchiamo di concentrarci Quasi sono dei blaze Andiamo subito ad ammazzarli Devo stare attento dove vado Perché Uffa E' veramente rischioso qua A stare nel nether Mamma mia E poi devo muovermi Perché sapete dove devo andare Devo andare a fare tante altre cose Devo andare nel mineshaft Devo fare tante cose blaze Non posso perdere tempo con voi Avete capito Facciamo una cosa Cerchiamo di Spaccarlo con l'arc Vediamo se mi droppa Oh L'ha droppata Finalmente ha droppato la blaze Perfetto Però me ne serve tante altre Me ne serve Non ci posso credere Ok Finalmente Oh Eccolo qui Non ci posso credere Cosa vuoi fare Oh Oddio Ok Cerchiamo di ammazzare L'abbiamo ammazzato Non ci posso credere L'abbiamo shottato Fantastico L'arc power 2 E' bastato per poterlo shottare Perfetto Finalmente il ghast E' venuto a combattere Come un degli guerriero Oh mio dio Ok ok Stiamo attenti Non possiamo utilizzare Secchi d'acqua nel nether Sapete perché si bug Anzi Ve lo faccio vedere Perché voi non ci credete Ne sono sicuro Guardate Avete visto Non funziona E adesso non c'è neanche più Come facciamo ad andare da quelli Ehm Allora come posso fare Andiamo ad ammazzare quel blaze Così possiamo farlo fuori Perfetto Muoviamoci che si trova la mia destra E posso ucciderlo veramente facilmente Però volevo uccidere pure gli altri E però non posso Ok Stiamo attenti Vai 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 Sei mio blaze schifoso Dammi la blaze rod Dammi la blaze rod Ok dammi la blaze rod Mamma mia la blaze rod E' così rara Ma non me l'ha Non me l'ha droppata Non ci posso credere Ecco qui Un altro skeleton wither Haha Non mi puoi fare proprio niente Sono troppo forte Oh ma che cosa volete fare Non potete farmi niente Mamma mia E' un gran bel casino Combattere contro questi Da questa parte Non c'è proprio un bel niente Allora Sapete che faccio Comincio a costruirmi un ponte Da questa parte Cosa Oh no 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 Oddio Non posso Mamma mia aspettate Non posso Mamma mia Non c'ho più le frecce Per ammazzare quel ghast schifoso Aspettate Sapete cosa posso fare Posso fargli rimbalzare le palle Perfetto Haha Non mi puoi fare proprio un bel niente Boom Che figata Abbiamo sbloccato Oh abbiamo sbloccato la challenge Bellissimo Ok Mangiamo subito Ma quanto Quanto danno sta facendo la mia armatura Perfetto Quel ghast lì Ha il suo loot da quella parte Quindi devo cercare di andarlo a prendere Andiamo da quella parte Anzi Dobbiamo cercare di scendere Doviamo trovare un modo per scendere Ma questa lava Ma da dove viene questa lava Cosa Non c'era questa lava Da questa parte Ho sbaglio Forse c'era Ormai non mi ricordo più Che cosa sto facendo Oh mio dio Uno scheleto normale Ora dobbiamo subito Vedere se c'è il loot Del ghast Perché dovrebbe essere una specie di lacrima Di ghast Se non mi ricordo male Anzi Non c'è niente Ma che schifo Ma dai Su Pensavo che ci fosse qualcosa di interessante Invece niente Un altro Allora Morirai pure tu ghast Guardalo 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 che figata Mamma mia Rischia di morire Rischia di morire Quello Oh Cosa Oh No 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 Che sta succedendo No aspetta aspetta No No ma cosa sta facendo Ok ok Mangiamo 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 No No Non ci posso credere No Ma che cosa ho fatto No Oh mio dio Oh mio dio Ho provato No Non ci posso credere Ho provato A chiudere la lava Invece dovevo semplicemente mangiare Perché se rimango dentro la lava Con l'hardcore Continuo a bruciare Di continuo Non ci posso credere Quelli schifosi blades Ecco chi sono stati Ora stavo cercando di pensare A quello che ho fatto E non stavo facendo niente Stavo giocando con il ghast Mamma mia Quei blades Ti possono tirare le palle di fuoco Da tipo 30 40 blocchi E infatti erano quelli dall'altra parte Lontanissimi Non quei due che mi davano fastidio Secondo me O forse erano loro Non mi ricordo sinceramente Perché mi erano ferite le frecce Non ci posso credere È finita la serie No A quanto pare Veramente è finita l'hardcore Non ci posso credere Sapete cos'è che mi dispiace Mi dispiace Non aver costruito l'isola volante Veramente Tra tutto quello che è successo L'unica cosa che mi dispiace Veramente È non aver costruito L'isola volante Bellissima Che mi immaginavo Non ci posso credere Facciamo una cosa Visto che questa serie Andava così tanto bene Dell'hardcore Vi voglio chiedere Se vorreste vedere Una nuova serie dell'hardcore Con tipo qualche mod Che tipo aggiunge Sapete Tipo le tigri O aggiunge dei villaggi bellissimi Eccetera eccetera E poterla farla diventare Veramente bellissima Piena di cose strane Così sarebbe Molto più divertente Da registrare Sarebbe tipo Una specie di Hardcore migliore Una ultra hardcore Qualcosa del genere Una super hardcore Ditemi nei commenti Cosa mi pensate Di quest'idea Perché Io mi divertivo Tantissimo Questa hardcore E non mi va Di averla finita così Morto così In questo modo Quindi Voglio Cominciare un'altra Ma ditemi nei commenti Se voi vorreste Vederne un'altra E se vorreste Vedere una nuova serie Dell'hardcore Dobbiamo arrivare 10.000 mi piace In questo video Mi dispiace Veramente tantissimo Essere morto Io non avevo Neanche intenzione Di stare qui Nel nether Volevo solo Semplicemente prendere Qualche blaze road E andarmene subito Nel mineshaft Perché Vi ricordate Che vi avevo detto Di votare Tra mineshaft e nether Perfetto Avevate votato nether Questa volta Volevo andare nel mineshaft Non ci posso credere Ovviamente Nella prossima hardcore Non costruirò Una base sottoterra Con il fossato di lava Ma costruirò Un'isola volante Perché è proprio Quello che volevo fare Il povero piccolo Pic pic leggendario Rimarrà qui Solo per sempre In questo mondo Abbandonato Perché io non posso Più giocare Questo mondo Guarda Mi dispiace Veramente tantissimo Abbandonarti Piccolo pic pic Leggendario Poi questa stanza Bella che avevamo costruito Questa farm Questo cestino di lava Questa base bellissima Questa stanza Del portale del nether Molto bella Guardate qua Intorno a noi Possiamo vedere Tipo tutte le caverne Che abbiamo esplorato Oh mio dio Guardate qui Che figata Tutti i conicoli Che ho fatto Con i diamanti Che figata Avete visto Quanto è che ho scavato Per cercare di trovare Tutti i diamanti Che ho trovato E vedete questi conicoli Cosa portavano Portavano Veramente tantissime caverne Guarda qui quanti Sono veramente tantissimi Poi da quella parte Ne ho visti tanti altri Oh Questa è stata tipo La mia primissima caverna In cui ero entrato Vi ricordate Questa era proprio La prima caverna In cui ero entrato Guardate Mamma mia Avevo Ci avevo visto giusto Questo buco Portava a una caverna Gigantesca Mamma mia Mi dispiace un pochino Mi dispiace un pochino Abbandonare questo mondo Però A quanto pare Non posso più giocarci Quindi devo essere Devo per forza Abbandonarlo E finisce così La serie della hardcore Non ci posso credere E se vi ricordate Questa fu La mia primissima casetta Che costruì In questa serie Della hardcore E questa era La mia prima volta Che facevo una hardcore Seria E infatti è andata Veramente benissimo L'avete supportata Con tanti mi piace Tanti commenti E tante condivisioni Grazie mille Per il supporto Che avete lasciato In questa serie Ovviamente Se appena arriviamo A 10.000 mi piace Mi dite nei commenti Che vorreste vedere Una nuova serie Cercherò di iniziarne Una nuova Per l'inverno Perché Oh mio dio Adesso che ho preso Tanta esperienza So come giocare In una serie Della hardcore E potrei Potrebbe durare Molto molto di più Ditemi nei commenti Cosa ne pensate Di questo episodio Della serie hardcore L'ultimo episodio Della serie hardcore Ovviamente Arriviamo a 10.000 mi piace Se vorreste vedere Un nuovo episodio Fantastico Ditemi nei commenti Cosa ne pensate Condividete questo video Con i vostri amici E ditemi Ovviamente Come siete morti Voi nelle vostre serie hardcore Perché la mia La mia morte Penso sia stata Vrappamente Troppo troppo Stupida Sono rimasto lì A giocare troppo A rischiare troppo La mia vita Con quei blaze schifosi E infatti Ci ho pagato la vita Mamma mia Comunque Ci vediamo A un prossimo video Ciao ciao